Eccoci arrivati all'aggiornamento di questo lavoro qua, dove abbiamo fatto la pulizia delle cuticole nel video precedente, adesso vedremo tutto il procedimento. Allora, come prima cosa la vedete? È comunque bella mangiucchiata, maltrattata, il letto ungueale, guardate, il letto ungueale non è per niente omogeneo, lo riuscite a vedere che non è omogeneo? C'è un po' di residuo di prodotto, guardate come sta rovinata quest'unghia, è mangiata, è irrigata, questa è una classica unghia di onicofagia, dove abbiamo già fatto una bella pulizia dry manicure, che vedete nel video precedente, ditemi come si vede perché sono stata un po' in difficoltà, nel caso la rifaccio su un'altra unghia, però, di questa qua. Altrimenti, sapete che cosa faccio? Che se non siete riusciti a vederla bene, faccio questo video qua prossimamente, però con la spiegazione che tenete l'altro, quindi questo sarà un altro video aggiornamento, ve lo farò solo rivedere ancora. Fermo restando che potete sempre vedere nelle live, che io lo faccio tutte le sere, ok? Quindi l'aggiornamento è continuo con noi, anche nelle live. Allora, questa che facciamo, la prima cosa è la dobbiamo opacizzare, non utilizziamo con questa una lima troppo abrasiva, io utilizzo questa che è molto usata, anche perché è sottile, l'unghia è porosa, quindi mettendola sempre in bocca è, diciamo, sottile, morbida, è trattata male, quindi ha tutti i difetti. Ti consiglio quest'unghia e deve essere, non deve essere grattata tanto, ma deve essere opacizzata e dobbiamo anche andare a togliere il colore. Anzi, adesso faccio una cosa, per togliere il colore, quel poco di brillantini, che è bellissimo l'effetto, ma fanno sempre questo, non riescono a togliersi per bene. Vado prima un po' con la fresa, solo su questo punto qua, a togliere solo questi brillantini qua, con questa bellissima punta che utilizzo sempre, e me la vedrete utilizzare anche dopo, che ha mille usi. Qui è in ceramica, non brucia nemmeno su quest'unghia qua, che è maltrattata, sto con i giri della fresa, e vedete, io non sto sentendo dolore, non vado a premere troppo. Diciamo che già mi ha dato anche una mano, questa punta qua nel perfezionare un po' l'opacizzazione, non è male come situazione. Qua nell'angolino, vedevo ancora quella puntina bianca che non mi piace, qua nell'angolino anche, posso riandarci, se vediamo qualcosina proprio di brutto e di strano come hanno tutte le onicofaggiche. Possiamo andare ad agire anche con questa punta, basta che teniamo i giri della cuticola, vedete, sta comunque togliendo un po' il tutto. Per chi non ce l'ha può procedere con la lima come procederemo adesso fra poco. Noi già abbiamo fatto, ecco qua, siamo andati a togliere pure quest'altra pellicina. L'importante è andare a perfezionare il lavoro, perché questa è una cosa importantissima, io ci tengo tantissimo. Aspettate la posizione, ci tengo tantissimo, lo sapete perché questo è quello che vi dà la garanzia e la durata di tutto il lavoro. Anche se perdete un po' di tempo, ma la perdita di tempo non è perfezionare, è perché non lo fate spesso. Una volta presa la mano, voi questi passaggi li fate sempre più veloci. Vado prima sempre con una spruzzata di cleaner, vado a perfezionare tutto. Ho visto una pellicina che andiamo a ritagliare qua all'interno. Vado ad opacizzare adesso, scusate, vado nei laterali a scendere giù perché l'onicofagia, voi lo sapete, ha i due laterali che sono cicciotti, ok, per andare a proteggere l'unghia. Quindi se facciamo solo dritto non riusciremo mai ad opacizzare tutto, vado per bene ad opacizzare il tutto senza premere perché è molto sottile. La cliente può sentire dolore e lo potete sentire anche voi e lo posso sentire anche io in questo caso. Siccome il lavoro già l'abbiamo fatto con la punta, c'è bisogno di farlo poco. Per andare nel laterale, vedete, dovete spingere verso il basso così ed è tutto opacizzato, vedete? Andiamo sempre con spray. Un passaggio importante, sempre in più, che possiamo fare è prendere il microbrush, io lo faccio con la soluzione perché c'è l'alcol all'interno e non è oleoso, lo vado a intingere nella soluzione dell'acrigel e vado proprio all'interno, guardate qua, perché adesso c'è bisogno di una pulizia sgrassante profonda che va però a evaporare subito. La soluzione dell'acrigel è l'ideale, vedete che sto andando proprio all'interno, guardate qua, ed è tutto enormemente pulito. Solo questo che io, vedete, questa è questione proprio di perfezione, sta sta bellicina qua, che non ho capito perché non viene via. Eccola qua. Nonostante tutti i passaggi che ho fatto, ok. Sembra che non c'è niente, ma guardate, stesso è fatto che stanno sempre in bucca, guardate quanta... Si sta, vedete, già deidratante, deidratando, quindi si è seccata anche dall'ultima pulizia che abbiamo fatto, guardate. Allora, guardate, qua è successo un'altra cosa, ci sono due colori su quest'unghia, perché? Il microbrush che abbiamo utilizzato conteneva solo alcol e l'acetone, quindi è andato a seccare tutta l'unghia, mentre un po' più lucida è questa parte qui, che io ho sgrassato con il cleaner, che contiene la parte oleosa. Quindi io vado con la soluzione dell'acrigel e vado ad idratare tutto. Infatti io nel prep non lo utilizzo proprio. Ok. Fatto questo passaggio, ci prepariamo con il preparatore, primer acido, primer non acido, in questo caso ce lo mettiamo non acido, perché l'unghia è bella, bella, sottile, la pulizia l'abbiamo fatta perfetta. Cercate di mettere, di aprire, di mantenere la cuticola e di andare un po' verso la cuticola quando non è acido, perché quello non acido dà una pellicola protettiva. Aspettiamo due secondi che l'unghia se lo assorbe un po' e procedo con la base rubber per andare a fare un primo livello per livellare il letto ungueale. Quindi una prima micro, 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 micro struttura non perfettissima. L'andiamo a fare con la base rubber. Rubber. Allora, vado a prendere la prima passata, la vado a fare in modo molto 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 sottile, pennellino quasi asciutto, per fare lo strato di scivolamento, anche perché l'unghia è abbastanza piccola, guardate, prende quasi tutto il dito, e per non andare a sbordare fuori. Vado sempre a fare lo stesso procedimento, visto che abbiamo fatto quella bella pulizia di cuticole. Alzo la cuticola e metto il pennellino un po' all'interno. Dopo, fatto questo, prendo proprio una goccia, ma sapete quanto? Ma proprio una goccia, ora vi faccio vedere. Una goccia, eccola qua, messa al centro. Mi pulisco tutto il pennello, deve essere asciutto, senza prodotto. Con la punta vado a... Con il pollice apro la cuticola. Con la punta spingo leggermente vicino alla cuticola e scendo giù. Spingo leggermente e scendo giù. Anche se esco un poco fuori. E vado sulla pelle. Non fa niente. Provo per andare a incominciare a fare anche una piccola struttura della nostra unghia. Vado a perfezionare il laterale. Mi vedete così? E vado già a scendere dritto in questo senso qua. Se vedete che è uscita un po', ovviamente andate a livellare il tutto. Questo è il primo risultato. Già il lettungueale si è livellato. Vedete? Questo già è il primo risultato. Andiamo ad asciugare. Ora che vado a fare? Vado a ricostruire con l'acrigel. Vado a prendere una perla, ma piccola, raga, piccola. Anche per questo la spadola l'abbiamo fatta sagomata. Perché il nostro acrigel è morbido. Si può prelevare anche in piccolissime quantità. L'unghia è piccolissima. Io vado a prendere, guardate la quantità. Secondo me è anche assai. Guardate che quantità. Una perla minuscola. Minuscola. Poi vedremo se dovremo togliere l'eccesso. Vi faccio rendere conto. La vado a posizionare al centro. E già mi rendo conto che è... Tanto, però, glielo rimango al centro. Puliamo la spadolina. Che comunque è un'abitudine pulire la spadolina. Però vi ho detto è più lunga. Potremmo anche non sporcarci. Andiamoci a preparare per l'acrigel. Io sempre con la mano stolta. E andiamo a creare la struttura. Come conosciamo che si crea la struttura. Quindi, per prima cosa, vado a tagliare questo velo del pennello. Come prima cosa, vado a preoccuparmi del giro cuticole. Quindi vado a spingere verso il giro cuticole. E vado a sfumare bene bene il giro cuticole. Non vi attaccate troppo a giro cuticole, perché dopo andiamo a perfezionare il tutto con il pennellino. Me lo allargo e me lo spingo. Poi vado a fare i due laterali dritti, senza toccare il centro. Ok. Infatti era un pochino in più. Esco un po' fuori dal bordo e incomincio a creare la mia forma. La forma dell'unghia. Che desidero ricreare. Già è venuta la forma, vedete? Con la struttura. Guardate. Due secondi ci ho messo. Ora pulisco. Andiamo un po' a perfezionare l'altro laterale che... Stando con la mano così. Allora, noi dobbiamo perfezionare un attimo questo laterale qui. Lo facciamo scendere e lo rendiamo... dritto, ma lo allarghiamo un po' e lo rendiamo dritto. Poi facciamo lo stesso con quest'altro laterale. Lo facciamo scendere. Ma lo rendiamo dritto, anche se dopo un po' di laterali li possiamo andare a limare. Vedete bene bene se ha coperto tutto? Ok. Il bordo mi sembra che sta bene. Ma io direi che avremo quasi già anche finito. Riveliamo un po' la struttura se non la vediamo omogenea. Proprio a filo, a filo, a filo, perché sennò vi rovina il bordo libero. E adesso vado a prendere il pennello piccolo. Adesso ve lo faccio vedere nei dettagli. Guardate, c'è anche la sfumatura con la lana là fuori. Questo potrebbe anche rimanere così. Però c'è quest'altro laterale che non è tanto dritto come questo. Che faccio? Prendo, perché sempre il nostro agri-gel dà la possibilità, il pennello piccolo. Me lo vado un po' a bagnare. tolgo l'eccesso e andiamo a sfumare col pennello piccolo e andare a coprire un po' questo laterale che non mi piaceva tanto. Allora, adesso è questione semplicemente di andare a perfezionare. Alziamo il giro cuticola e se non si è sfumato bene, vedete qua che punta fuori. ce lo spingiamo all'interno. Non è che dovete mettere tutto il prodotto all'interno, lo dobbiamo sfumare perché il segreto, e dopo vi faccio vedere pure come farlo con la punta, il segreto anche dei sollevamenti è che questo bordo qua non viene sfumato. Se vedete che la punta si sta abbassando verso il popastrello, noi con il pennello lo utilizziamo un po' indietro così, così mettiamo più prodotto nei laterali. Ok? Da quest'altro lato io lo vedo quasi perfetto. Io direi che posso, ve lo faccio vedere più nelle vicinanze. Siccome è autolivellante, si autolivella da solo, lo sapete. E così andiamo in lampada. Ecco qua. Ora sgrassiamo. Il trattamento, diciamo, che potrebbe essere finito. Ok? Dobbiamo solo andare a perfezionare un poco, magari per chi non è stato preciso nella struttura, chi sa fare la tecnica senza limatura non avrà problemi, può rimanere anche così. La struttura c'è. Diciamo che abbiamo ricostruito un'unghia intera, senza cartina, e con la base rubber sarebbe stato molto più difficile. Invece, una volta preso la mano, con questa fate una struttura da un'unghia così mangiata, corta, inesistente, a un letto ungueale livellato con struttura e molto, molto, molto resistente, allo stesso tempo elastico. Ok? Quindi, con la base rubber sarebbe stato non solo più difficile, ma è talmente, diciamo, più elastica rispetto all'acrigel che ha un po' di gel all'interno che o veniva troppo doppia, veniva confetto, o addirittura non riuscivate a fare una precisione del genere e dopo dovevate limare. Invece, adesso vado a togliere un attimo i pennelli da mezzo, che io consiglio di fare sempre quando dovete fare la limatura. Poi andiamo a prendere il piccolino per il colore e andiamo non a fare la limatura, ma a perfezionare un po'. Allora, i laterali vanno verso il basso, i laterali devono stare dritti, la limatura è questa, dobbiamo rendere il laterale dritto, ok? Specialmente se abbiamo toccato, se abbiamo toccato basta scrollarlo un po', non succede niente, si toglie subito, ecco qua, già si è fatto l'aria sotto, vedete? Questo, consiglio sempre queste lime così piccoline, anzi, andiamo a prendere questa che è un po' più abrasiva, queste lime sottile che stanno sul nostro shop online perché vi dà la possibilità di perfezionare il tutto. Andiamo, vedete, sotto il bordo libero, quindi abbiamo creato pure il bordo libero, il laterale lo rendiamo dritto di qua, poi andiamo dall'altro lato, lo rendiamo dritto dall'altro lato, giusto un tantino, lo dobbiamo scendere giù perché non dobbiamo far arrivare lo scalino dritto che abbiamo passato la lima, quindi lo scendiamo verso il basso per sfumarlo e per rendere la cosa ancora più naturale possibile. Andiamo un po' a fare la punta perché sarà sicuramente cicciotta, visto che non teneva appoggio, non teneva bordo libero, la punta non sarà mai precisa precisa, quindi andiamo un po', ecco, vedete, a liberare la punta. Se c'è qualche pizzetto fuori che non vi piace, potete tranquillamente passare un attimino la lima un po' dappertutto, andiamo ad opacizzare tutto, ma questo non è sempre necessario, per esempio la prima volta che lo faccio in queste due non l'ho fatto proprio. Andiamo a limare un po' il bordo perché la punta non deve essere cicciotta, punta sfumata verso il basso, vediamo se ci possiamo rendere conto della punta che la dobbiamo fare sottile, come se fosse proprio naturale naturale. Io direi che è finita. Allora andiamo a fare un'altra spruzzetta, spruzzetta, un'altra spruzzata. Ok. Il giro cuticole, se non vi convince, vedete com'è livellata bene, in due secondi, c'è il bordo libero che poi andremo a perfezionare con la pulizia della spugnetta, abbiamo un poco di bordo libero, cosa che quest'unghia se la sognava. Il giro cuticole, se non lo vedete ultimato per bene, con questa punta lo possiamo andare un attimo a sfumare. Vedete, io qua con la lima non sono riuscito ad andare. Giusto un giretto, siete sicuri che avete sfumato per bene. il giro cuticole e non avete lasciato niente al caso. Giusto un tantino, se non andiamo a togliere prodotto, mi raccomando, un tantino, giusto per uniformare il tutto. Questa non è una limatura, è un perfezionamento che siamo andati a fare. A questo punto, buffer, per livellare la superficie perché abbiamo passato la lima, e colore, colore lucido. E ragazzi, abbiamo finito. ditemi voi com'è, fatemi sapere, perché a me questo lavoro piace tantissimo, sembra un semi permanente, le clienti rimarranno sbalordite, rimarranno sbalordite specialmente del risultato, e non solo, ma anche della durata. andiamo a pulire, e andiamo a metterci il colore, se no sfumiamo bene il giro cuticole, il colore non sarà mai omogeneo, e non possiamo andare a, ad andare sotto con la cuticola. Mi raccomando, lime non troppo abrasile, perché già il prodotto è poco, se no lo andiamo poi a togliere. Io vado a mettere un bel rosso, prima passata proprio stretta, 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 perché altrimenti sporchiamo il tutto, infatti vedete, ho pulito troppo il pennello. Partendo sempre dalla punta per scaricare il prodotto, andando piano piano verso i laterali, non vi avvicinate troppo al giro cuticole, perché dopo lo facciamo con il pennellino, anche laterale, non scendete troppo, il russo, una volta che sporca le cuticole, le cuticole rimangono sporche, rimangono macchiate, quindi lo mettiamo al centro, così, ok? Lo mettiamo al centro, poi prendiamo il pennellino piccolino, e andiamo a sporcare tutto quello che è bianco, perché poi dopo dobbiamo andare a fare la seconda passata, quindi prima il laterale dritto, e con molta precisione, scendiamo giù, poi dal centro per prendere il prodotto, andiamo ad alzare la cuticola, e dal centro che prendiamo il prodotto, andiamo a gestire tutto il canale cuticolare, non è per niente semplice, specialmente su me stessa, andiamo a sporcare bene bene la punta, prendendo sempre il colore dal centro, e possiamo inizialmente andare in lampada, dopo completiamo la nostra opera d'arte, vedete, se i laterali voi li sfumate, questo fa proprio un bel effetto, perché il colore viene bombato così, viene sfumato nei laterali, e viene un bellissimo effetto, adesso vado in lampada, e facciamo la seconda passata, ok, ora la seconda passata sarà più semplice, ne possiamo mettere anche un po' più abbondante, perché già abbiamo formato il tutto, adesso ci prendiamo un po' di prodotto, visto che è un po' abbondante, e andiamo a rifare il giro cuticolare, perché altrimenti si vede la trasparenza, mi raccomando, la precisione pure sotto, non lasciate niente di color rosa, e io un pochetto, ma giusto un pochetto sporcato, ora devo prendere un qualcosa di molto sottile, ci vorrebbe un aghetto, qua, per andare, oh, mi è caduto il pennello sporco di rosso, vabbè, vado con la punta qua dell'unghia, vediamo se riesco, perché sta vedendo precisissimo, è peccato sporcarlo, ecco qua, guardate, guardate che precisione, guardate se apro il giro cuticole, pure all'interno c'è, perché noi il giro cuticole dopo lo dobbiamo abbassare, guardate che precisione, dappertutto, anche la punta, questo bianco che vedete è polvere, ce lo andiamo a togliere dopo, conviene non andare a toccare niente più, andare a polimerizzare, ecco qua, ultimo step, il nostro top revolution, poi andiamo a fare la lucidatura delle cuticole, andiamo a abbassare con la lucidatura delle cuticole, il giro cuticole lo andiamo a lucidare e ad idratare, e ditemi voi se questo non è un lavoro di precisione bellissimo, attenzione a questo punto a non toccare le cuticole con il lucido, altrimenti si attaccano, e roviniamo tutto il lavoro, sigillate bene la punta, quello che abbiamo colorato, vedo un granellino di polvere che abbiamo tolto, giriamo un po' per livellarlo, e voilà, è perfetto, guardate qua, adesso diventerà tutto omogeneo con l'olio per cuticole, così comunque avete trasformato una mano onicofagica con bordo libero, con esteticamente una visuale molto, molto, molto naturale, perché a volte vedo che diventano troppo enormi, diventano cicciotti, perché il prodotto non è tanto, perché poi dovete limare, magari chi non è tanto esperto a limare, lascia troppo prodotto, non riesce a perfezionare, in questo modo qua, con questa tecnica e con questo Acrygel, soprattutto ragazze, non perché io voglio vendere il mio Acrygel, mi è stato fatto appositamente, per avere questi requisiti, diciamo che questo lavoro si può fare anche con la base rubber, se è un letto ungueale, un poco più uniformato, e c'è perlomeno il bordo non libero, ma che va a toccare il popastrello, qua non tenevamo manco il bordo libero a toccare il popastrello, sarebbe stato, diciamo, un po' più difficile con la base rubber, perché è un po' più liquida, ma questo Acrygel è morbido, da poterlo sfumare, avete visto che la lanula è rimasta fuori, trasparente, perché si può sfumare, con l'Acrygel in tubetto, e comunque ha una consistenza molto più densa, quindi non solo andremo a mettere, per farlo sfumato poco prodotto, ma dovremmo schiacciare, trasportare, schiacciare, trasportare, invece di gestirlo con il pennellino sottile, non potremmo mai farlo con un Acrygel in tubetto, perché è più denso, e quindi il lavoro verrebbe sempre più spesso, rispetto a questo che risulta totalmente naturale, nessuno saprà che è una ricostruzione in Acrygel, abbiamo ricostruito proprio tutto da zero, come se il letto ungueale non ci fosse proprio, ok? Allora è una caratteristica particolarissima del nostro Acrygel, che ci dà la possibilità di fare quest'ottimo lavoro, visto che io ho parlato mentre stavo in lampada, procediamo con la lucidatura della cuticola, giusto una goccetta al centro, vado a prendere la fresa, questa è un'altra cosa che all'interno dei miei corsi è nata quest'anno, e non l'ho mai fatta vedere. Con la punta di silicone andiamo ad idratare tutto il giro, vedete che qua ci sono ancora delle pellicine, vado proprio a trasportarle qua, per toglierle queste pellicine, per idratare tutto il giro cuticola, anche sotto, in modo che andiamo a pulire, vedete questa parte qui sotto che è rimasta andiamo ad idratare il tutto, ok, idratato il tutto si prende un pad pulito asciutto, ho una salviettina imbevuta, quella proprio per i bambini che continuano ad idratare, perché altrimenti l'olio andiamo a sporcare, se lo trasportiamo sul lucido lo andiamo a sporcare, e diventa un po' copaco, vedete io lo sto comunque pulendo dai residui, ecco, abbiamo tolto tutto, quella pellicina maledetta non è andata via, e quindi la andiamo per forza a tagliare, e uno e due, ok, questo è il lavoro finito, che abbiamo fatto qui, che già sta crescendo pure, che abbiamo fatto qui, che non ho finito la lucidatura, ditemi voi se non è un lavoro bellissimo, grazie e ci vediamo al prossimo, e ci vediamo al prossimo,